Tre giorni di totale interruzione della fornitura idrica per molte zone di Benevento e l'avvertimento alle aziende del territorio di non ignorare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. La FISAC CGL Sanita scrive alle direzioni delle aziende di credito, assicurazione, finanziarie ed esattoriali di Benevento e provincia, una missiva indirizzata per conoscenza anche all'ASL e al prefetto. I timori che in questi tre giorni disagi possono ricadere non solo sulle utenze private ma anche per i lavoratori e dunque forte. Di qui l'iniziativa del segretario Vincenzo Perrotti che ha preso carta e penna e chiesto di garantire le condizioni igienico-sanitarie per il personale e la clientela attraverso la disponibilità di acqua potabile, la funzionalità dei servizi igienici e le ordinari operazioni di pulizia dei locali in alternativa alla chiusura parziale o completa degli uffici. Insomma il Sannio si prepara all'ennesima emergenza sul fronte idrico. Come annunciato dalla Gesesa infatti per via di urgenti interventi alla condotta del Biferno programmati dalla regione Campania da lunedì 3 agosto a mercoledì 5 bisognerà fare i conti con l'interruzione della fornitura.